Quasi 2000 i volontari che sono stati accolti a San Giovanni Rotondo in occasione del raduno nazionale del volontariato di protezione civile sistemati presso il campo base nell'area Pozzo Cavo, un'area allestita con 90 tende da 8 persone ciascuna. Un programma intenso, quello che si svilupperà sino a domani, domenica 16 giugno, che questa mattina ha visto l'arrivo del capo dipartimento della protezione civile nazionale Angelo Borrelli, accompagnato da Ruggero Menea, presidente del Comitato regionale permanente di protezione civile regionale. Borrelli ha colto così l'occasione di annunciare la firma di due importanti accordi con il ministro dell'istruzione Marco Bussetti, il primo che inserisce l'insegnamento della cultura di base della protezione civile nel disegno di legge che disciplina la reintroduzione dell'educazione civica nelle scuole italiane, il secondo invece che prevede l'istituzione di una settimana della protezione civile che quest'anno sarà dal 13 al 20 ottobre. Un'idea, ha evidenziato Borrelli, nata sulla scia del progetto che sta portando avanti in Puglia il delegato del presidente della regione Puglia per la protezione civile, Ruggero Menea. Tra gli interventi presentati questa mattina da Borrelli c'è anche la piattaforma nazionale di allertamento della popolazione che ha detto è una realtà. All'inizio del prossimo anno saremo pronti con gli operatori della telefonia mobile a gestire questo sistema che arriverà direttamente al cittadino. Intensa, dicevamo, la tre giorni di raduno nazionale della protezione civile che vede tra gli appuntamenti clou, incontri formativi, un convegno sulla lotta agli incendi boschivi, la fiaccolata di questa sera dalle 21 alle 22 presso il santuario di San Giovanni Rotondo e musical in omaggio a Padre Pio dal titolo Actor Day, l'attore di Dio. Domenica mattina quindi la sfilata degli oltre 2.000 volontari arrivati da tutte le regioni d'Italia con le famiglie per raggiungere la Basilica di San Pio dove si svolgerà la messa solenne. Per questo grande raduno evidenziato Ruggero Menea siamo riusciti a mettere insieme le quattro grandi strutture operative nazionali, Croce Rossa, Ampas, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e le Misericordie. La migliore rappresentazione dello slogan che abbiamo scelto per questo raduno, Ut Unum Sint, siamo una cosa sola. E questa è l'immagine che offreremo all'Italia intera nei tre giorni di San Giovanni Rotondo.